ciao scorpione e benvenuto andiamo a vedere con le mie carte quali novità ci saranno per te chiederò ovviamente per le relazioni va bene quindi andremo a vedere l'amore ma anche le relazioni in tutti i sensi quindi anche se sei single magari si possono dire che conoscerai qualcuno o magari potresti ritrovare un qualcosa che loro ti raccontano che ne so io il tuo rapporto con un fratello con un'amica insomma vedremo un po i rapporti interpersonali in genere i rapporti affettivi in genere ok allora andiamo a vedere questo video ovviamente non darò tempi quindi avrà validità dal momento in cui tu lo vedrai d'accordo andiamo a vedere guarda subito prima carta strano la passione subito così a bomba per lo scorpione un bel escapito ok ok scott pione allora allora qui c'è qui c'è senz'altro una relazione di un qualche tipo va bene qui la passione me lo dice la passione me lo dice quindi qui c'è un momento la tazza di caffè e tutto il resto appreso qui c'è una passione una relazione di un qualche tipo un incontro insomma però fanno anche vedere che come se questo fosse un rapporto si passionale si bello si con una persona con cui veramente ti potresti trovare bene ti potresti divertire tutto quello che ti pare con cui conversare con cui parlare con cui passare dei momenti felici sereni tranquilli insomma so come meglio dire va bene però qui mi dicono not enough qui c'è una frustrazione di un qualche tipo c'è un qualcosa che non ti parla o a te o all'altra persona insomma io penso a te perché di te scorpione che sto parlando quindi qui c'è un qualcosa che non ti torna un qualcosa che manca in questo rapporto ok andiamo a vedere quindi avranno vedere sicuramente passerai dei momenti di divertimento senz'altro che vedo uscire con gli amici focalizzati su te stesso scorpione sicuramente capito quindi cercare di apprezzarti di più di pensare di più a te cioè di divertirti di divertirti ok qui fanno vedere proprio la gioia la felicità happiness e me l'hanno fatto vedere anche qua negli oracoli nelle carte quindi qui momenti di gioia di gaudio e di felicità per lo scorpione guarda però c'è una qualche avversità vedi qui c'è una felicità che va incontro ad una qualche avversità quindi cosa ci dicono tutte queste carte insieme ci dicono che qui c'è è un motivo di divertimento di gioia di passione di tempo spesso anche con gli amici divertimenti tutto quello che ti pare però c'è un qualche cosa con ti torna c'è un qualcosa che manca per essere veramente felici questo mi fanno vedere queste carte andiamo a vedere con i tarocchi cosa raccontano vediamo per lo scorpione quindi qui c'è come si dice quel qualcosina che manca vedi not enough c'è qualcosa che non è abbastanza però insomma qui vedo uno scorpione insomma le sue cose le fa ti vedo i suoi divertimenti tu ce l'hai sicuramente gli amici ce l'hai vedo le uscite vedo le bevute con gli amici ma qui c'è anche qualcuno che ci piace perché c'è la passione quindi qui sicuramente qualcosa c'è però vedo uno scorpione come dire anche molto incentrato su di sé sul proprio benessere sulla propria felicità e tu ne sbagli mai scorpione a far così vediamo segno zodiacale dello scorpione l'imperatore con il 4 di bastoni mi sono uscite vediamo l'imperatore 4 di bastoni ok il fante di bastoni capovolto la temperanza per lo scorpione qui invece di una me la buttano addirittura 3 il 2 di bastoni il cavallo di bastoni e il 10 di denari vediamo sono un po troppe che mi gusti ma insomma non importa allora mettiamola sì io qui ti vedo single single o comunque è lì che tu vuoi arrivare quindi fra di voi sicuramente c'è un qualcuno che è single che non ha che non ha una relazione una relazione vera e propria o ancora qui ti vedo frequentare anche delle persone single come ti ho detto prima praticamente no che abbiamo visto che abbiamo visto uscite con gli amici divertimenti sbagli divertimenti anche per quanto riguarda questa passione quindi magari qualcuno che tu frequenti o che tu frequenterai no a livello passionale però senza alcun impegno capito rimanendo single come si dice amici un pochino più un pochino più particolari poi la cosa ti potrà piacere come no perché qui una qualche avversità la vedo per raggiungere proprio quella felicità che te tu vorresti scorpione capito quindi qui qualcosa c'è però insomma effettivamente qui fanno vedere imperatore quattro di bastoni quindi qui c'è una presenza importante nella tua vita se non è di già il tuo compagno la tua compagna c'è comunque una persona che ci piace o ancora qui c'è una situazione che ci piacerebbe avere ci piacerebbe avere la stabilità la stabilità la sicurezza il sapere quella persona c'è e via andare però effettivamente qui mi fanno vedere che c'è anche molta inconcludenza qui delle avversità ci sono per arrivare a questa gioia questa felicità questa completezza che tu vuoi però qui un qualche cosa c'è qui c'è un soggetto c'è una presenza qui c'è una persona che ci piace con cui abbiamo questa chimica molto 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 forte c'è una persona che ti piace c'è io qui vedo questo imperatore ok poi se tu sei uomo o donna poco importa questo potresti essere te se sei donna lui è quello che ti piace quindi qui c'è però diciamo che qui è come se non volessimo più adeguarci accontentarci ad una determinata situazione magari ad essere la seconda scelta di questa persona perché qui ci potrebbe essere un'altra persona in mezzo capito cioè qui c'è un bastone in mezzo alle ruote con questa persona che potrebbe essere come ti ho detto la presenza ad un'altra persona ma questo tu lo saprà se lo vedrai lo vedrai se scorpione ok quindi qui più che altro vedo incontri conversazioni godersi il momento diciamo un'amicizia passionale ecco un'amicizia passionale più che un amore per la vita almeno in questo momento ho capito e la cosa ti potrebbe un pochino frustrare però non sono carte negative no no qui ci sono i divertimenti le uscite capito le uscite il pensare a se stessi il godersi il momento per l'amor di dio ecco mi fanno semplicemente vedere mi dicono che non c'è quella presenza fissa stabile che ti possa far pensare o investire su un futuro insieme almeno non da queste carte non adesso perlomeno ok vediamo i segni zodiacali per lo scorpione vediamo un po ok qui mi danno la bilancia la bilancia il segno dei gemelli bilancia gemelli quindi qui questa figura c'è vedo un po di concludenza anche da parte di questa persona i pesci la lo lo scorpione scorpione come te l'ariete con quali segni zodiacali avrà a che fare lo scorpione qui mi danno mi confermano i pesci che erano già usciti il leone il cancro tiriamo un altro segno poi mi fermo e il e il capricorno che è uscito qua ok quindi scorpione qui divertimenti divertimenti una passione sicuramente una persona interessata a te e te a questa persona perché qui mi fanno vedere sicuramente questo imperatore quindi qui una figura una figura c'è che ti piace che ti interessa e tu potresti anche già frequentare magari non nel modo o con le intenzioni che tu vorresti te però per il momento è così fanno vedere senz'altro conversazioni 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 incontri sicuramente incontri quindi ci potrebbe essere un incontro con questa persona o comunque una o più comunicazioni con questa con questa persona però fanno vedere non lo so è come se le scorpione a te questa cosa qui questo rapporto in questa maniera non ti bastasse più come se tutti volessi recare tu volessi andare verso un qualcosa di più affidabile più duraturo più stabile più 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 pianta con terra capito come dire io mi devo un po' adeguare a questa situazione ma io non ho più voglia di adeguarmi io non mi voglio adeguare sono frustrata non mi va più bene così ecco io vedo un pochino vedo un pochino questo per te scorpione poi non so dimmi un pochino se chi ti hanno chi ti hanno richiamato queste arte che cosa ti richiamano che cosa stai vivendo e che cosa vedrai vivrai ovviamente va bene scorpione io ti ringrazio e ti aspetto al mio prossimo video ciao scorpione eccoci qua vi lascio ai miei no ciao